Allora, scusate un attimo, io sto per andare via, però volevo portarvi una domanda che non faceva parte del quiz, dei quiz che avete fatto e ve la faccio per farvi rimanere impresso un concetto oggi che avete fatto un adempimento importante alla firma di questo contratto di lavoro. Io non so chi di voi sa cos'è il partito della pezza o se appartiene qualcuno di voi al partito della pezza. Vi dico che io non sono del partito della pezza, sono una persona che preferisce sporcarsi le mani ma fa le cose. Chi fa parte del partito della pezza invece, prima di fare le cose, comincia con mille masturbazioni mentali e mille problemi. Vi voglio solo consegnare questo messaggio oggi che inizia il vostro percorso nella pubblica amministrazione. Arrivederci a presto. Grazie a un applauso. Grazie.